Sono quattro giorni impegnativi per noi. Iniziamo da giovedì, dalle 19, si parte, apriamo gli stand e iniziamo la serata con una commedia di aletale, bicciolante depressivo e poi dopo venerdì con la musica balli latini, poi sabato e domenica due complessi, Fabrizio l'Accademia e poi la terza idea di domenica sera. Gli stand sono sempre i soliti, diamo polenta a volontà, poi grigliate, cresce di urbino, siamo in piazza della Repubblica a Montecchio, proprio centrale, la piazza centrale di Montecchio e dopo ci saranno i mercatini, anche i mercatini dal sabato pomeriggio, i mercatini al sabato mattina, ci saranno le giostre per i bambini nel parco Volponi. Grazie alla Proloco che ha un programma di eventi abbastanza importanti, questa della Polenta, già dall'idea che stiamo arrivando in autunno e l'inverno. Poi insomma ci sono anche tradizioni, tre, quattro giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica, che mi pare sia importante dal punto di vista anche della socialità, perché non è che si mangia e si beve da Dio in questo territorio, a Vallefoglia, ma anche dal punto di vista della integrazione e della crescita di una comunità, perché è una comunità coesa, è una comunità che sta insieme, che ha molte opportunità. Quest'anno sono state tantissime le opportunità, ne cito solo due, oltre che questa che è quella di maggior impatto, ma la Proloco ne ha fatte tante e noi le ringraziamo perché è un'associazione di volontari che fanno il loro lavoro e a tempo perso danno una mano a far crescere la comunità e la società. Grazie a tutti.